E' stata un'altra prova come quella di San Mauro, andiamo avanti e poi con tanto cuore riusciamo a portarla a casa senza soffrire quasi mai. Sapevamo che tipo di partita era, sapevamo che era una partita difficile, loro molto chiusi, hanno preso pochi gol, quindi ci aspettavamo questo tipo di partita. Noi bravi a ribattere tutti i loro lanci lunghi sulle punte, anche perché non era facile, erano molto fisici, poi cercare di ripartire, l'abbiamo fatto bene, non abbiamo avuto tante occasioni ma è andata bene, abbiamo sfruttato quella che abbiamo avuto, la più importante e siamo contenti. Pochi minuti prima del tuo gol il mister te l'aveva detto di stare largo e di stare alto. Sì, avevamo provato anche in allenamento questa tattica, io cercavo sempre di stare più stretto perché avevo paura quasi delle loro ripartenze, però quando il mister me l'ha detto ci ho provato e l'azione si è sviluppata e Donne me l'ha passata di prima l'ho calciata. Qual è il nostro obiettivo principale? L'abbiamo sempre detto, con questi tre punti siamo sempre più vicini. Siamo sempre più vicini ma non ci vogliamo accontentare sicuramente, puntiamo sicuramente ad arrivare il prima possibile al nostro obiettivo per poi provare a fare quello che viene con la totale serenità.